Questo video vi aiuterà ad installare il termostato Netatmo. Ecco gli elementi che vi serviranno per l'installazione del termostato. In questa installazione il relais Netatmo è collegato alla vostra caldaia e controlla il riscaldamento. Il relais comunica via radio con il termostato Netatmo sul quale voi regolate la temperatura. Il relais assicura la connessione senza fila di Internet ed il controllo a distanza tramite l'applicazione Netatmo. Installazione del relais Prima di iniziare non dimenticatevi di togliere la corrente. Aprite il cofano di protezione della caldaia per accedere al terminale elettrico. Fotografare gli allacciamenti presenti potrà esservi utile. Identificate i terminali di alimentazione 220 volt. Identificate i terminali d'ingresso del termostato. Se necessario, togliete il ponticello presente talvolta sui terminali del termostato. Per maggiori informazioni sull'identificazione del termostato, visitate il forum Netatmo al seguente indirizzo. Munitevi del relais e dell'adattatore caldaia. Collegate i fili blu e marrone dell'adattatore caldaia ai terminali di alimentazione precedentemente identificati. Collegate i fili nero e grigio dell'adattatore caldaia ai terminali di ingresso termostato precedentemente identificati. Utilizzate l'adesivo fornito per incollare l'adattatore caldaia. Collegate il relais Netatmo. Attivazione del relais. Rimettete la corrente. Il relais lampeggia per indicare l'accensione. Premete leggermente sul pulsante in basso, la luce blu si accende e la caldaia si mette in moto. Premete una seconda volta sul pulsante e la caldaia si spegne. Installazione del termostato. Munitevi del termostato Netatmo. Inserite le pile. Il termostato ricerca il relais. Una volta trovato il relais, il termostato segnala la temperatura ambiente e la temperatura desiderata, chiamata anche temperatura di consegna. Potete personalizzare il termostato con uno degli adesivi colorati forniti. Installate il termostato al muro sulla piastra o sul suo supporto mobile. Il vostro termostato è installato. Per programmare il termostato e controllare la caldaia a distanza, installate l'applicazione Netatmo scaricandola sul vostro iPhone, Android o sul computer dal seguente indirizzo. Il nostro corso gratuito è molto andato. Grazie a tutti.